no non so te il tuo gusto in un arco ma a me non piace dirai che sono ancora 2 o 3 dì a te che l'hai messo sull'11 marco si? ho detto dì a te che l'hai messo sull'11 si bravo marco io sono sull'11 ma che l'hai messo sull'11 si cazzo raga complimenti ma sto facendo la riva con viola eh ma da un po' lo sto facendo perchè lo sto dicendo? perchè lo sto facendo ah si? appunto devo salvarlo no quello sei te no era inevitabile no era inevitabile dai le prese che in corsa a uno che entra sono inevitabili poi posso sbagliarla e viene punito ma questo non importa merda aderai te? Grazie